per la nostra rubrica un caffè con oggi un format particolare siamo con andrea benelli e valentina cerrocchi siamo con andrea e valentina perché cosa vogliamo fare due chiacchiere sul sul tutto su come affrontano loro il mondo del poker andrea è un giocatore professionista conosciuto ai più e valentina è una florman della specialità cash game andrea iniziamo da non siamo cavalieri noi iniziamo subito da andrea la tua le tue specialità sono come sappiamo i tornei e il cash game volevamo sapere innanzitutto i tuoi progetti a breve e a medio termine adesso tra dieci giorni sarà l'ipo a campione poi andrò a las vegas per giocare il main event e poi c'ho un appuntamento il 9 agosto in america e north carolina perché chi vince il main event duosop ha diritto ad entrare al free roll che fanno da un milione dal 9 al 13 agosto quindi quell'appuntamento è immancabile immancabile e poi niente per il resto vediamo in barcellona vediamo ma andrà le cose poi decideremo ora andrea mi devi scusare devo passare a valentina valentina i tuoi progetti a medio e lungo termine quindi dovrei sicuramente accompagnare a vegas andrea e si andrò con lui lo seguirò anche in america l'ho già fatto l'anno scorso e niente sarò un po insieme a lui andremo a barcellona andremo a north carolina vediamo cosa combina quest'anno di buono e quindi 6 6 anche la sua diciamo prima tifone è quello senza ombra di dubbio adesso una domanda per che vi farà sicuramente piacere c'è una domanda che tu devi fare valentina ok ti volevo fare questa domanda ma tu ma tu ti senti forte no perché in questi giorni lei mi ha detto vorrei giocare a poker è stato qua due giorni e i risultati sono stati disastrosi poi fare questa domanda ti senti forte allora è vero le mie prestazioni di queste isop non sono state delle migliori ma io non sono schillata come lui perché io conosco dama contro assotto passo 8 giustamente va lui con colore lui con assodama prende assodama al flop quindi lo schillato è lui e non io per questo io busto e lui no benissimo ok purtroppo giova bene ma un po sfortunata adesso e adesso però aspetta una domanda valentina una domanda da io ti vorrei chiedere una cosa amore se ho una speranza che non gambli più al casino nella vita impossibile ecco bellissimo dunque chiudiamo questa intervista con un'ultima domanda ad andrea andrea una domanda più grande della preghiera siccome probabilmente saremo presenti anche noi durante il main event alle campionati del mondo di las vegas quindi ci concederai un intervisto se uno di quei giocatori che non concede interviste mentre c'è il main event e queste cose no io sono sempre disponibile con tutti e specialmente con tutti gli staff che lavorano sempre dietro come per le iso come tutti gli eventi che c'è in giro io sono sempre disponibilissimo sì la dimostrazione è stato questo che è impegnato nel nostro nel nostro i roller ma si è subito concesso noi quindi appuntamento las vegas con andrea valentina noi se riusciremo comunque a fare è una domanda ultima domanda questa devo fare io però ma la faremo giocare anche las vegas questi i buoni risultati di queste iso con i suoi soldi sì benissimo quindi appuntamento vegas con andrea valentina e i suoi soldi ci vediamo per il prossimo caffè con valentina e andrea ciao grazie grazie